Sono Alessandro Terrila, amministratore delegato di Ente Baccini. Ente Baccini gestisce i bacini di carenaggio nel porto di Genova e oggi vuole dare la testimonianza di un settore in crescita, quello legato al mondo della riparazione navale, della costruzione e della demolizione, ma in generale del settore della nautica. Io credo sia importante sottolineare come questo settore della industria navalmeccanica nel porto di Genova è un settore non solo che si sta sviluppando, ma che si può sviluppare compatibilmente con la città e con l'ambiente. Quindi utilizzando tecnologia, investimenti che già sono oggi presenti, penso all'elettrificazione delle banchine, ma ci sono molti altri esempi che si potrebbero fare, permettono di continuare lo sviluppo di un settore industriale fondamentale per la nostra città, ma direi per il nostro paese, con le esigenze di stare a contatto con la città. Per questo abbiamo bisogno di tecnologia, di passione e di competenze.